Dicoy è un nuovo giocatore di Trentino Volley, ben arrivato a Trento Dic, con che ambizioni arrivi in questa società? Sono contentissimo di essere qua, Trezzino Folia ha una storia molto importante, da quando sono piccolo ero arrivato a Modena, giocavamo qua contro Trento, purtroppo sempre persi perché ero gli anni migliori che ci sono stati qua. Sono come un bambino felice di essere qua, è tutto qua, non vedo l'ora di iniziare con questo gruppo meraviglioso, ragazzi di alto livello, una società di alto livello, è tutto qua, più di questo non lo puoi avere nella vita. Nel frattempo hai guadagnato anche in questi anni lo status d'italiano, quindi sei una pedina a tutti gli effetti, è ancora più importante anche per il tuo status e poi l'ultima stagione a Piacenza ha dimostrato che sei un giocatore di altissimo livello. Sì, è andato bene l'anno scorso, però è già passato, quindi dobbiamo pensare adesso a questo anno, a questo nuovo gruppo, con un nuovo allenatore per noi, per quelli che sono arrivati ora, però sì, dobbiamo vedere come vanno le cose, però non ho dubbi che faremo delle grandi cose. Hai parlato di allenatore, per proposito avrai sicuramente già parlato con Angelo Lorenzetti, è la prima impressione? Vabbè, Angelo lo conosco già da un bel po', mi sono sempre trovato bene, è un allenatore di alto livello, anche fuori campo, quindi sicuramente facciamo dei successi insieme. Hai avuto Angelo a Modena, lo ricordiamo anche a chi ci sta ascoltando, e quindi si riallaccia sostanzialmente un filo. Sì, quando l'ho visto subito mi ricordo i feeling che avevo con lui prima, e quindi sono molto contento di essere con lui. Da te ci si aspettano tanti punti perché sei un giocatore votato all'attacco, ma dal tuo punto di vista dove puoi dare qualcosa di diverso a quello che magari il pubblico, i compagni si aspettano? Ma spero di dare una mano a tutti, il primo, il secondo, il terzo. Adesso dobbiamo vedere cosa vuole Angelo, come vuole che la squadra gioca, cosa si aspettano da me, alla fine è lui che ci guida, e noi possiamo provare solo a fare il nostro meglio e lavorare tanto. Ultima cosa, un messaggio per i tifosi che ti stanno guardando. Ciao a tutti, sono Dick, sono felicissimo di essere qua, non vedo ora quando iniziamo e spero di vederti presto.